Settimana nera per il territorio peligno sangrino, poiché è tornato ufficialmente l'incubo del contagio. Addio ai sorrisi nascosti dietro la mascherina, quella spensieratezza settembrina che aveva quasi definitivamente archiviato l'emergenza pandemica in centro Abruzzo. Negli ultimi sette giorni, dal 18 al 24 ottobre, sono stati ben 61 i casi messi a referto dalla ASD, la gran parte registrati a Sulmona, che dopo il traguardo del covid-free è tornata a indossare la maglia nera del contagio. Il capologo Peligno ha raggiunto la quota dei 41 attuali positivi. Il weekend ha fatto registrare pieno di contagi, 11 casi venerdì, 11 più 1 sabato 21 nella giornata di ieri. Negli ultimi tre giorni sono stati quindi accertati ben 43 casi. Numeri da capogiro che configurano indubbiamente uno stato di allerta, devono portare a rivedere singoli comportamenti quotidiani. Stop allo scambio dei dispositivi, a quello delle sigarette, alle mascherine abbassate in ogni circostanza, non solo all'aperto. I focolai attivi sono essenzialmente tre, i professionisti del 110, le frequentazioni extrascolastiche, la festa elettorale. Anche se va rilevato, il contagio post-ballottaggio è strettamente legato al fronte dei professionisti e non si sarebbe sviluppato nella cena della coalizione vincitrice, visto anche il protocollo applicato dei tavoli distanziati, degli accessi con Green Pass. Nelle ultime ore il virus circola senza freni, con il cosiddetto fronte random, nel senso che alcune positività non sono collegate con nessuno dei focolai attivi. Per questo l'amministrazione comunale, guidata dal neosindaco Gianfranco Di Piero, sta programmando uno screening di massa per venerdì e sabato, proprio a ridosso del ponte di Onnisandine, palazzetto dello Sport. Sono 1.400 e test antigenici disponibili, annuncia il sindaco Di Piero, ma se ne stanno anche chiedendo degli altri. I dettagli organizzativi saranno definiti nelle prossime ore. Si è comunque passati dai nove casi settimanali della settimana precedente e 63 di quella appena conclusa, un balzo esponenziale che ha fatto schizzare l'indice del contagio e con esso gli attuali positivi esorvegliati. Negli ultimi sette giorni si è registrata la dimissione di un paziente, ma altri due covid sono stati ricoverati, per cui sale, anche se di poco, l'asticella della degenza con quattro posti letto occupati, numeri importanti anche per l'ambiente scolastico. Complessivamente sono 10 le classi in isolamento, 21 studenti sono risultati positivi, mentre 2 i docenti contagiati. Nella maggior parte dei casi si è riuscire ad evitare un provvedimento per le intere classi con la ricostruzione dei contatti stretti da parte del Servizio di Prevenzione ASL, che resta in prima linea per il sorpasso al virus. L'origine del contagio va ricercata al di fuori della scuola per i singoli comportamenti adottati, con le positività che hanno avuto ripercussioni sulle diverse classi, tant'è che al momento non si sono registrati focolai scolastici. Insomma, le misure di contenimento del contagio sono state applicate, ora tocca un po' a tutti fare la differenza nel quotidiano, ovvero agire con prudenza per salvaguardare la ripartenza stabile dei comparti da tempo in sofferenza. La solita tregua del lunedì riporta una calma apparente nell'area pelinio-sangrina. Oggi la casella di positivi, dopo l'impennata di ieri, è tornata a zero, ma in realtà alcuni referti devono ancora arrivare per un leggero ritardo, soprattutto il caso sospetto legato alla festa elettorale, poiché un convenzale avrebbe manifestato dei sintomi. Nelle prossime ore la situazione sarà definita.